La comunità cattolica cingalese che si riunisce settimanalmente presso la chiesa di Sant'Antonio Maria Pucci in zona fiera ha celebrato la sua festa annuale in onore della Vergine Maria. Nello Sri Lanka i cattolici rappresentano una piccola minoranza del 7% ben inserita nella società e sono presenti nelle due etnie che abitano l'isola, i cingalesi e i tamil. La comunità cattolica bolognese è attiva da oltre un decennio ed è un prezioso punto di riferimento per molti cattolici dello Sri Lanka che esprimono la loro fede anche con le singolari e ricchissime espressioni della loro cultura. Un gruppo di bambini che è stato ammesso ai sacramenti nelle rispettive parrocchie ha avuto la gioia di festeggiare anche insieme alla comunità. Uno dei momenti caratteristici che precede le celebrazioni liturgiche nelle più importanti solennità è l'accensione della lampada. Nella cultura srilanchese è considerato un grande onore di essere invitati per accendere un lume alla lampada che rappresenta un gallo. La tradizione ha la sua matrice nella cultura buddista, largamente maggioritaria nella popolazione cingalese, ma è stata accolta anche dal piccolo mondo cattolico nel quale il pennuto annunciatore del giorno è visto come figura del cristiano che attende la venuta del Signore e canta le lodi del vero sole che è Cristo. La celebrazione della messa presieduta da Don Ruanta, cappellano della comunità, si è conclusa con una breve processione in onore della Madonna.